Buonasera, sì, sì, eh, un momento, ok Oh, sì, un momento, che, sì, un momento No, ok, 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 ok Eh, 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 qui passe, ok Ah, ok, 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 ok Ok, ok, ok. C'est lui, c'est lui, c'est lui. no no oh a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.